Sì, è un po' di schiftezza. Poi andare a mangiare, non le puoi dire a me, non le puoi dire a me. Poi andare a mangiare, non le puoi dire a me. Poi andare a mangiare, non le puoi dire a me. Poi andare a mangiare, non le puoi dire a me. Poi andare a mangiare, non le puoi dire a me. Poi andare a mangiare, non le puoi dire a me. Poi andare a mangiare, non le puoi dire a me. Poi andare a mangiare, non le puoi dire a me. Poi andare a mangiare, non le puoi dire a me. Poi andare a mangiare, non le puoi dire a me. Poi andare a mangiare, non le puoi dire a me. Poi andare a mangiare, non le puoi dire a me. Poi andare a mangiare, non le puoi dire a me. Poi andare a mangiare, non le puoi dire a me. Grazie.